Si definisce l'Abruzzo regione intermedia con grandi potenzialità, occorre una spinta ulteriore per una politica industriale attiva perché il manifatturiero rappresenta la vera tricchezza? Sì, non c'è un bari dubbio. Intanto è confortante sapere che nel momento di una crisi europea devastante la regione Abruzzo nel periodo che va dal 2007 al 2012 è una di quelle che ha resistito meglio la crisi, sia per quanto riguarda il prodotto interno lordo, sia per quanto riguarda i dati occupazionali. Naturalmente non si può annullare. Un'altra caratteristica dell'Abruzzo che è stata anche un punto di forza, ma nello stesso tempo può essere un punto di ebolezza quando la crisi industriale è violenta, è quella della forte incidenza del settore manifatturiero ed è una incidenza sulla quale noi possiamo però puntare in prospettiva e in termini anche di occupazione. Per questo la regione investe moltissimo sui poli di innovazione, investe moltissimo in ricerche, innovazione, sviluppo, tecnologie perché sa che queste sono oggi le sfide del nostro settore industriale che si rivolge principalmente all'estero, quindi di internazionalizzazione. Siamo la quarta regione italiana, secondo il Sole 24 ore, per investimenti su questi temi e speriamo che il nostro settore industriale possa avvantaggiarsene. Io ritengo che anche le politiche che abbiamo attuato attive del lavoro abbiano avuto una influenza, certo non decisive, rispetto ai dati occupazionali dell'Abruzzo, rispetto alle altre regioni. Dobbiamo continuare in questo senso e soprattutto dobbiamo facilitare moltissimo alcuni processi burocratici che sono frutto di una cultura consolidata e di normative che hanno preteso di regolamentare anche il ruolo degli uccelli e quindi esaltando la burocrazia. Speriamo nel futuro di avere una maggiore capacità di penetrazione in questo senso. Forza dell'Abruzzo sono anche le grandi imprese, soprattutto le grandi imprese, penso la Val di Sangro, penso la Sebel. È necessario però supportare queste grandi imprese rendendo il territorio sempre più competitivo anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture. Lo Svimez mette a risalto che noi abbiamo una presenza di investimenti esteri notevole anche rispetto alle altre regioni italiane, infatti c'è una presenza delle multinazionali abbastanza particolare rispetto a tante regioni italiane. Questo se c'è è perché hanno trovato una convenienza ad esserci. Tenga conto che sulla Sebel, io ricordo tante le litanie, e chiude la Sebel, e chiude la Sebel, e allarmismo, e cosa in maniera bella, vedrete che verrà presto Marchione, anzi il 9, verrà la Sebel a annunciare nuovi investimenti, così come è successo con De Cecco, che sta investendo in maniera sensibile, sta scommettendo sulla Bruzzo, ci scommette anche la Sebel, quindi ci scommette anche la Fiat, e ci scommetto anche io, per quello che può contare.